Do you wanna know a secret? Le seguenti modifiche sono state apportate nel gioco. Le ricompense mancanti dal sistema record sono state aggiunte al gioco, provvederemo ad inviarle agli evocatori che le hanno già completate nel prossimo futuro. Qui l'elenco complete delle ricompense. Non posso cliccare. Vabbè, non so se siete mai arrivati ai 600.000 merit point o a 2 milioni di merit point che vabbè sono un fottio. Comunque la notizia più importante riguarda dopo. La pietra leggendaria nella sala degli scambi si ricarica ora correttamente ogni settimana. Ah, perché si doveva ricaricare? E chi lo sapeva? Corretto un problema con il dungeon rovina della conoscenza, il livello 2 adesso è accessibile soltanto... No! Ragazzi, mi dispiace. Finito il bug. Le ricompense del fronte rounder per i ranghi dal 27 al 31 sono state cambiate con quelli presenti sulle altre versioni. Gli evocatori che hanno già raggiunto quei ranghi le riceveranno nel baule. 27 l'arma divina, 28 rana della sfera, 29 fiori celeste, 30 sfera stella, che se non sbaglio è questa, sì quella del 600.000 merit point. E 31 Tesla. Tesla è una donna ed è una mitigatrice gratis, quindi è buona. Sempre per chi ha raggiunto il grado 31 del fronte rounder. La Dungeon Sfida in New Avalon resterà aperta permanente. Ok. I primi per l'evento di Natale in cerchio di baule Natale verranno inviati oggi. Yay! Quindi oggi andate a evolvere il vostro babbo Natale. Babbo Generoso perché ha vinto gli addobbi rossi. Verrà la prossima settimana. Aspetta, no. Ah, i premi oggi. L'evoluzione settimana prossima. Vabbè, quindi oggi mi riempiranno di regali. La sfera Excalibur, sì, ok, finalmente è stata aggiunta alla sala degli scambi, quindi andremo a prenderla. Può essere una cosa? Come bene, ok. Excalibur, beh, sappiamo tutti quanto è. E poi spiega l'extra skill di Artù e... Boom. Barabim, barabum. È stata aggiunta la lista delle sfere permanenti nella sala degli... Ah! Sono... Spermanenti? Allora, di quello che sono qua è utile il tesoro male, fiori celeste, magi minerale un po', cret sole, cret luna e... beh, dai, basta. Non pensavo le mettesse le permanenti. Vediamo i regali! Vediamo i regali! Yeah, vai! Sono a rango 27 nel fronte rounder. Il prossimo fronte rounder devo raggiungere il 31 per forza. La lama divina aumenta all'attacco e la difesa del 100% per i primi due turni. Sì, se non sbaglio. Poi la prendo e la metto a Sotnarg. Così in arena fai il culo! Mi sa che devo vendere. Datemi un attimo, vediamo se devo vendere. Sì, devo vendere. Quindi ci vediamo nella sala degli scambi, là. Eccoci qua nella sala degli scambi, nella sala qua delle mie missioni. Andiamo subito nella sala degli scambi per fare una cosa. Per andare a prenderci Excalibur. Altro. Quindi qua dovrebbe essere 99, ok. Bene. Sfera, occhio di finice, fulgasta, tesoro, fiore celeste. Quindi sarà la fine? Eccola qua, Excalibur, che per me è disegnata un po' malino. Però, vabbè. Sì, bella l'ho scritta. E via. Mamma mia. Non ho più Merit Point. Come abbiamo visto, ci sono Crezzole, Cretluna, Gemma Pura, Malfrumento, Maggi Minerale, Rosa Divina, Tesoro Male. Se avete 15.000 Merit Point e non volete aspettare regali, prendetevi l'inteso normale che fate bene. Poi, andiamo a scambiare. Dato che non ho più Merit Point, andiamo a vendere gli ultimi Mermium che mi erano rimasti. Sono 14.000 Merit Point, così ritorniamo a 42. Ah, 32. Bello. La matematica e vai! Poi, 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 poi. Andiamo a vedere nella record. Abbasso un attimo il volume. Dovete andare in missioni se volete prendervi i premi che hanno dato, quelli nuovi. Io ho questi Mermium qua, ho appena raggiunto i 700.000, infatti, come vedete, sono a 704.000. E quindi, a 700.000 si può prendere la Respigemma, e la Respigemma non è altro che una sfera che aumenta del 35% tutte le statistiche. Oh, mio Dio. Adesso voglio andare a vedere quanto attacco arriva. E, sinceramente, non so cosa fa questa sfera qua. Lo andrò a vedere, mi informerò, e se è utile la ritiro. No, aspetta un attimo. Io voglio vedere quanto attacco arriva. Sì, sto parlando di Artu. Ho paura. Allora, ora c'ha il cuore di Skalmold, se non sbaglio. E probabilmente la lama, l'Excalibur, è giù. Alla fine. Sì. Tadà! Purtroppo non si può mettere l'Excalibur e l'anima di Jack, perché sono tutte e due da critico. Sennò sarebbe veramente, ma veramente, figo. Vediamo quanto attacco si vede. Oh, che bello! Finalmente l'Extra Skill, mamma mia. Ok, adesso Artu toglierò un bel po' di più. Sono contento. Ah no, giusto! È vero, non era questa la sfera che gli volevo dare. Non è il cuore di Skalmold. Il cuore di Skalmold è debole ormai. Ok che però il cuore di Skalmold vi riduce la barra del Breath Burst e i danni subiti dagli elementi scurità e fuoco. Ma io gli volevo dare la respigemma. Che per cosa me l'ha cambiata? Ok. Tadà! Ok, direi che questo qua è... va bene. Come Artu va bene. Poi darò, boh, la... Quell'altra sfera a qualcun altro. E... fine! Fine! Andate a... Evolvervi le vostre... Evolvervi le vostre unità. Andate a riscattare i vostri premi. Io ora sono a 259 oggetti nel baule. Non so a quanto potrò arrivare oggi pomeriggio quando daranno gli oggetti del Natale. Ma mi sa che arriverò a 300. Forse. Forse. Niente, fatemi sapere voi se avete preso Excalibur. Che comunque anche se non la date ad Artu, Excalibur è un'ottima sfera. Di... da critico. Perché comunque sia ovviamente del 50% all'attacco della vostra unità e buttateceli via. E... Se avete quali ricompendenti... Fino a che Merit Points siete riusciti ad arrivare. Io ho 700.000. Voi? Speriamo... Speriamo... Che il Frontier Rounder inizi tra poco perché... Ho bisogno di gemme. Anche se sono già a 16 però ho bisogno di gemme. Ragazzi noi ci vediamo al prossimo video che sarà quello del gioco nuovo. Quindi... Oggi è giovedì. Oggi è giovedì. Quindi... Sabato probabilmente uscirà il video. Noi ci vediamo. Vi ricordo che ho una pagina Facebook. Andate a iscrivervi. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace e... Ciao ragazzi! Noi ci vediamo. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo. Noi ci vediamo.